scooter scudieri in sei mesi di attività è riuscito a vendere 1500 cd unicamente utilizzando il proprio sito web poi si è evoluto può andare a trovare il suo sito john talieri altro nome italiano italiano all'estero ma sempre un cognome italiano questo ci dovrebbe far pensare è riuscito allo stesso modo a vendere 4000 cd sempre con il proprio sito internet ellis paul canta autore pop country abbastanza interessante che ho scoperto sempre mentre analizzavo questi dati è riuscito a vendere 25.000 cd dei suoi due primi album autoprodotti quindi solamente parliamo dei suoi primi due album april nash un'altra artista che punta sempre un po verso il country e che sinceramente non mi piace molto ma i gusti di francesco nano non c'entrano tanto in questa in questa situazione ha venduto in quattro anni 60.000 copie del proprio disco a 15 dollari l'una mica male saul williams cantante e poeta americano è riuscito in poco tempo a vendere qualcosa come 28.000 download a 5 dollari l'uno sfruttando il meccanismo della reciprocità cioè ti regalo il disco in bassa qualità se lo vuoi me lo acquisti ebbene su 120.000 download in pochissimo tempo è riuscito ad ottenere 28.000 vendite eni di franco che attenzione terzo cognome italiano che incontriamo in questa saga di musicisti stranieri artista che non conoscevo per niente si vocifera che nel giro di sette anni si è riuscito a vendere qualcosa come 400.000 copie da sola da completa indipendente lavorando unicamente con molti concerti e con il proprio sito web non era appoggiata da alcuna major non c'erano sponsorizzazioni di nessun tipo i suoi brani non passavano su radio molto importanti non passavano su mtv tuttavia è riuscita ad ottenere davvero dei numeri da da star soprattutto tenendo conto che non ci sono stati intermediari insomma per queste per queste vendite facendo un piccolo salto di notorietà possiamo ancora citare il famoso caso dei radiohead che in occasione del lancio del loro già uscito disco in rainbows sono riusciti a totalizzare qualcosa come 16 milioni di dollari in pochissimo tempo regalando semplicemente questo questo disco in cambio di un eventuale donazione quindi fans hanno acquistato il disco ma con una donazione ebbene tutti questi sono casi sicuramente di artisti stranieri ma che mettono in luce le potenzialità e le possibilità che ha internet allora il percorso che stiamo facendo adesso in questo momento è proprio direzionato mirato in questa mi correggo in questa direzione noi piccoli musicisti italiani con la nostra platea italiani italiana possiamo arrivare a questo non dico a questi numeri ma dei numeri che ci consentano di vivere degnamente e io cito sempre questa cifra di 2500 euro al mese continuativamente qua in italia con dei fans italiani ebbene non l'ha fatto ancora nessuno nessuno ancora sperimentato il metodo segreto scuolasuono.it per vivere della propria musica tu sei uno di quelli che potrebbe imparare queste tecniche mie personali sviluppate da me ma ci dobbiamo arrivare ci dobbiamo provare ed è con questi dati che la sesta puntata della mitica saga di scuolasuono.it come vivere di musica propria con 2500 euro al mese a inizio voglio ringraziare anzitutto andrea diletti perché la persona che ha raccolto questi dati sta facendo un lavoro davvero egregio si occupa di marketing musicale e ti posto il suo link link ai suoi siti sotto a questo video grazie andrea per il lavoro che hai fatto io non avrei potuto mettermi alla ricerca di casi studio eclatanti ovviamente questi dati sono anche un po vecchiotti non sono aggiornatissimo se noi ci mettessimo a scartabellare casi studio molto particolari degli ultimi tempi ne troveremo sicuramente ancora di più eclatanti e forse anche di più vicini a noi casi più italiani se vogliamo più più nostri ebbene l'argomento di oggi è il seguente come hanno fatto questi artisti ad ottenere questi risultati dai piccoli risultati ai mega risultati c'è qualcosa che accomuna ogni storia c'è qualcosa che accomuna ogni artista indipendente ebbene sì e noi di scuola suono sia io in questo momento ho scovato qual è questa particolarità la particolarità è il fatto che tutti questi artisti hanno un seguito di fans affezionati che li continuano a seguire e che acquistano i loro la loro arte i loro nuovi prodotti i loro nuovi cd e tu mi dirai francesco ma hai avuto un'intuizione fenomenale se vendono questi hanno per forza di cose un fans club qualcuno che li segue sì il discorso è radio head a parte diciamo casi di artisti noti e famosi che potevano già contare sulla loro notorietà a parte gli artisti minori come hanno fatto a creare questo fans club come come hanno fatto a mantenere i rapporti a mantenere i contatti come hanno fatto a diventare quello che sono e a vendere a fare quei numeri che hanno fatto solamente da soli da artisti indipendenti con un sito web e con senza un'etichetta magari che li seguisse senza distribuzione senza grandi pubblicità su radio su mtv insomma come hanno fatto a farsi con le loro mani ebbene c'è un qualcosa che li accomuna e questo qualcosa è il fatto che sono riusciti piano piano a costruire un database di fans una grossa mailing list di fans un grosso veicolo che li permettesse di rimanere in contatto ebbene molto spesso come hanno fatto questi artisti a costruire questa questa grossa mailing list di persone interessate sono secondo te andate in giro per il web a cercare delle email da copiare da inserire nella propria lista email e poi spammare a destra e sinistra le loro comunicazioni compra il mio disco compra il nuovo singolo oppure hanno fatto un lavoro più intelligente più certosino e soprattutto meno spammoso ebbene ovviamente la seconda è l'ipotesi giusta hanno costruito piano piano una mailing list hanno costruito un sito web interessante si sono messi diciamo in luce come si diceva già nelle scorse puntate attraverso diversi canali attraverso youtube attraverso facebook attraverso twitter si usa molto twitter anche più all'estero che in italia comunque attraverso i social network si sono creati una visibilità hanno convogliato questa visibilità sul loro sito web sul loro sito web hanno dato la possibilità di iscriversi al loro newsletter e attraverso la newsletter e attraverso il proprio sito web e attraverso i social network hanno continuato a promuovere le proprie produzioni le proprie nuove e innovative canzoni realizzate loro la loro nuova arte che veniva messa in vendita solamente costruendo un sistema di questo tipo potremmo chiamarlo uno schema di questo tipo è possibile se solamente se la comunicazione è quella giusta però creare veramente un database di fans affamati della tua arte che sono quelli proprio che ti seguono che sono quelli proprio che desiderano acquistare un nuovo tuo prodotto quando esce una nuova canzone un nuovo biglietto per un tuo concerto con questa serie di considerazione vorrei anche rispondere più direttamente a un amico che mi ha scritto su scuolasuono.it in occasione del terzo episodio della saga di cui stiamo realizzando la sesta puntata e che mi ha detto guarda francesco io sinceramente non me la sento di regalare la mia musica io la musica che produco la voglio vendere ebbene caro amico visitatore e affezionato di scuolasuono.it ti dico una cosa sai come hanno fatto queste band e questi artisti emergenti a creare questo grosso seguito di fans inizialmente te lo dico io regalando la propria musica infatti regalando il download ad esempio gratuito di una canzone o anche di un intero disco e chiedendo in cambio l'email quindi la possibilità di ricontattare la persona che sta scaricando il tuo il tuo brano o il materiale che metti a disposizione hanno creato un database di fans che volevano essere ricontattati perché poi ovviamente tu hai sempre la possibilità di cancellarti dalla tua mailing list ma il fatto stesso di regalare qualcosa all'inizio ti dà questi due vantaggi il primo è che puoi chiedere in cambio l'email e quindi la possibilità di ricontattare queste persone la seconda è il fatto che si innesta quel meccanismo psicologico che i marketer avanzatissimi coloro che si buttano a pesce nel marketing definiscono come principio di reciprocità che è un po anche quello che sto utilizzando io su scuolasuono.it perché ovviamente ci sono moltissimi contenuti gratuiti e ci sono una parte di contenuti a pagamento e molti utenti di scuolasuono.it per ringraziarmi anche del lavoro che sto facendo a volte si sentono anche in dovere di ricambiare quindi quando esce un prodotto nuovo lo acquistano anche per non solamente perché gli interessa ma anche per ringraziarmi di altre cose che hanno avuto gratuitamente è un principio inconscio è un principio umano che fa parte della nostra indole proprio di persone siamo fatti così d'altra parte è abbastanza logico se io vengo da te e ti dico tieni ti regalo un orologio e tu te lo metti al polso posso stare certo che magari non oggi magari non domani magari tra una settimana tra un mese o tra un anno tu che ti ricordi di aver ricevuto un regalo ti senti sempre in debito e prima o poi cercherai di sdebitarti è una condizione umana una situazione naturale avviene così nel nostro cervello e quindi chi si occupa di vendite in questo caso anche tu perché anche tu dovrai occuparti delle tue vendite della vendita della tua arte deve tenere in conto come funziona il cervello umano come funzionano determinate reazioni e cercando di utilizzare queste informazioni per il bene quindi non per abbindolare le persone ma per instaurare un rapporto di fiducia per instaurare un rapporto tra fans e band tra fans e artista ebbene possono anche permettersi di utilizzare queste queste tecniche avanzate chiamiamole chiamiamole così ecco perché è necessario mettere la propria musica la propria arte anche a disposizione gratuita dei tuoi fan abbiamo queste due due interessanti diciamo risvolti nel mettere in pratica quello che ti sto dicendo dunque ricapitoliamo e concludiamo qua si tratta di creare da zero un database di fans sfegatati della tua musica quindi numero uno ci deve essere la musica deve essere bella musica deve essere registrata bene deve essere mixata bene quindi iscriviti all'accademia del mixaggio perché la diamo veramente tanti suggerimenti e trucchi su come mixare in autonomia e in economia la musica alla grande ci deve essere una bella produzione quindi belli arrangiamenti le chitarre per favore le chitarre accordatele non mettete sti muri di elettrica tutti scordati per favore accordate le chitarre passate dieci minuti in più ad accordare le chitarre cambiate le cambiate chitarra non so fate qualcosa ma non fate dei mixaggi che suonano come stratosferici e poi con le chitarre scordate vi prego è proprio mi viene l'angoscia quando sento le chitarre scordate quindi dicevamo musica bella fatta bene realizzata alla grande poi ci serve una buona visibilità su web una buona comunicazione abbiamo detto sia video anche scritta bisogna utilizzare alcuni social network ogni band ogni artista può scegliere un po la strada che preferisce sicuramente facebook e youtube sono la base di partenza è necessario costruire un proprio sito web ben fatto che funzioni bene che ci porti anche nuovi fans provenienti da oltre che dai social network anche da google cioè persone che cercano musica simile a quella che facciamo noi e che incontrano il nostro sito web trovano magari le nostre song da scaricare le scaricano gratuitamente in cambio dell'email si instaura un rapporto di conoscenza e confidenza questa persona automaticamente o se non automaticamente nella maggior parte dei casi potrebbe diventare un nostro accanito fans disposto a mettere mano al portafogli tirano fuori dei soldini per comprare la tua arte le tue nuove produzioni questo un po in sintesi è il quadro generale di quello che abbiamo detto in tutte le puntate fino ad ora ora come si fa tutto questo sia tecnicamente ma soprattutto dal punto di vista della strategia comunicativa se vogliamo ebbene questa è la materia oscura presente all'interno del percorso che sto preparando ossia del metodo segreto scuolasuono.it per vivere della propria musica a brevissimo inizieremo a svelare questi questi segreti e che cosa avverrà in pratica sto cercando la famosa band o il famoso artista che voglia mettersi in gioco per essere seguito da me ci sarà un lavoro d'equip anche su su questa band per aiutarla a costruire diciamo tutto il sistema di visibilità su web da sfruttare sia su web ma anche per mantenere i contatti ecco con i fans che può incontrare in un concerto quindi assieme a questa band o a questo artista che sto ancora cercando quindi per favore postate contenuti postate il vostro video la vostra video presentazione devo vedervi in faccia devo vedere se siete capaci di mettervi in gioco soprattutto e se avete del materiale musicale valido ebbene assieme a questa band costruiremo tutta questa struttura e avrà la band in questione l'artista in questione potrà contare sul mio aiuto se non faccia a faccia almeno telefonico sicuramente avrà un filo diretto con me seguirà le mie istruzioni e creeremo davvero qualcosa mi auguro di molto interessante di molto grande una struttura che anche tu con la tua band nel caso non venissi scelto selezionato nel caso non avessi avuto la possibilità di postare i commenti di cercare di convincermi che eri tu l'artista da seguire perché magari in questo momento non hai un brano pronto non hai una band ma sicuramente saranno informazioni che ti saranno assolutamente utili anche domani anche dopo domani perché le cose che diremo in conversazione privata con questa band sono delle cose universali sono delle strategie universali che funzionano dentro e fuori di internet e che però applicheremo proprio su web quindi sarà proprio una falsa riga del di ciò che potresti mettere in piedi tu da solo con la tua band con i tuoi amici magari avrai un aiuto per quanto riguarda la grafica cerca un aiuto esterno sulla grafica o per costruire un sito web però avrai tutte le conoscenze necessarie a portare avanti a terminare questo schema generale di cui abbiamo ancora parlato concludiamo qua a questo punto io sarei molto felice di ricevere delle domande se hai dei dubbi se hai delle perplessità se vuoi fare delle considerazioni ti prego tranquillamente di inserirle qua sotto nel mio sito web cercherò di rispondere il prima possibile se non direttamente per iscritto magari a video la la prossima volta comunque è importante per me capire se il percorso che abbiamo fatto finora ti è servito ti ha dato un'idea generale di quella che è la situazione potenziale della musica indipendente e soprattutto vorrei capire i tuoi dubbi o perplessità eventuali che ci sono sulla mia iniziativa infine ti chiedo la cortesia di aiutarmi a scegliere il prezzo dell'iniziativa nel senso che tutte le band che non non verranno che rimarranno fuori nel senso che ne sceglierò una per creare questo caso studio tutti gli altri artisti avranno accesso a queste informazioni ma solamente pagano una 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 quota insomma di partecipazione all'evento che non è un'iscrizione ricorrente l'acquisto praticamente del backstage del dietro le quinte della realizzazione del tutto l'impianto marketing e di tutto lo schema che abbiamo parlato fino ad adesso della band che verrà invece selezionata per partecipare gratuitamente e quindi avranno veramente accesso alle nostre potremmo dire anche conversazioni a tutto quello che è il dietro le quinte della realizzazione del sistema scuola suono per vivere di musica propria bene detto questo ho detto tutto poni sotto le tue domande rispondi qua sotto al sondaggio che ti viene proposto un abbraccio un salutone da francesco nano di scuola suono punto it ci sentiamo molto presto perché stiamo proprio per arrivare a conclusione di questa prima fase iniziale del della saga che poi terminerà nel momento in cui sceglierò la band che potrà essere seguita direttamente dal sottoscritto ed assieme ad altri elementi del suo staff un saluto da francesco nano ciao a tutti ciao da francesco ben trovati per la prossima volta su scuola suono punto it ciao